Scienziati cinesi creano un super virus polmonare da pipistrelli e topi, serve solo per motivi di studio ma sono tante le proteste, vale la pena rischiare? è un esperimento certo ma preoccupa tanti scienziati, un gruppo di ricercatori cinesi innesta una proteina presa dai pipistrelli sul virus della SARS la polmonite acuta ricavato da topi e nesce un super virus che potrebbe colpire l'uomo, resta chiuso nei laboratori, ovvio solo per motivi di studio ma vale la pena correre il rischio, creare una minaccia così grande solo per poterla esaminare? Maurizio Menicucci Vecchio quanto la scienza, il dibattito sui rischi della ricerca in fondo è il mito di Icaro che cade per avere sfiorato il sole con le ali di cera progettate dal padre Tedalo lo rilancia un esperimento realizzato in Cina dove un gruppo di studiosi è riuscito a sviluppare una chimera un organismo modificato innestando la proteina speciale di un coronavirus trovato nei pipistrelli della specie piuttosto comune detta naso a ferro di cavallo su un virus che provoca la SARS, la polmonite acuta anche se in forma non mortale nei topi si sospettava che la proteina potesse rendere l'ibrido adatto a colpire l'uomo e l'esperimento lo ha confermato è proprio questa molecola detta SHCO14 che permette al coronavirus di attaccarsi alle nostre cellule respiratorie scatenando la sindrome secondo i ricercatori inoltre l'organismo, quello originale e a maggior ragione quello ingegnerizzato può contagiare l'uomo direttamente dai pipistrelli senza passare per una specie intermedia come il topo ed è appunto questa eventualità a sollevare molte polemiche proprio un anno fa il governo USA aveva sospeso i finanziamenti alle ricerche che puntavano a rendere i virus più contagiosi ma la moratoria non aveva fermato il lavoro dei cinesi sulla SARS che era già in fase avanzata e si riteneva non così pericoloso secondo una parte del mondo scientifico infatti non lo è le probabilità che il virus passi alla nostra specie sarebbero irrilevanti